Ciao a tutti, siamo con Michele Marchigiani, CRM Loyalty Consultant per Comark. Vogliamo chiederti, Comark è una società che guarda al futuro, quindi secondo lei quali sono le nuove frontiere del loyalty management? Allora, Comark ha la missione di rispondere ai retailer sulla sfida di come integrare la cassa emergione di fisica e digitale, quindi per noi le frontiere sono sostanzialmente tre, connettersi al consumatore nei canali più appropriati, innovare la segmentazione e la profilazione del consumatore, quindi anche attraverso l'integrazione dei sistemi IT, EPR, CRM, e quindi permettere una profilazione di sempre miglior livello e sul terzo punto è integrare le campagne di loyalty management con i location-based services, ovvero dare l'opportunità al retailer di dare nuovi servizi e servizi innovativi al consumatore finché è dentro il negozio. Perfetto, grazie mille. Ciao a tutti, siamo con Vincenzo Sinibaldi, Business Development Manager per Comark. Anche quest'anno Comark si ripropone come partner dell'osservatorio FEDELTÀ. Dalla partnership con questo osservatorio è possibile ricavare delle collaborazioni con altre realtà aziendali? Allora, la risposta è assolutamente sì, diciamo non sulla base di fondamentalmente partnership potenziali, ma partnership reali. È successo proprio l'anno scorso che grazie a una presentazione sulle nostre soluzioni di Smart City, uno dei top player a livello italiano ci ha chiesto di lanciare un pilota su servizi basali sulla localizzazione per fondamentalmente aumentare il gathering data sul canale ORECA. Per adesso non posso dire qual è il player perché siamo ancora in fase pilota, ma spero a breve di poterlo esternare in pubblico perché è una realtà molto importante e il progetto è molto bello. Grazie mille. Grazie.